io resto a casa resto a casa perché in questo momento è fondamentale farlo ed è fondamentale nell'interesse mio e nell'interesse di tutti è altrettanto fondamentale che ognuno pensi a sé certamente ma pensi anche agli altri a tutte le persone che stanno lavorando per aiutarci ai medici agli infermieri a tutto il personale ospedaliero e a tutte le persone che girano intorno alla sanità ai volontari e tutto il resto non possiamo per un gesto egoistico di ognuno di noi per la nostra noia mettere in discussione il lavoro di tutte queste persone è vero è difficile anche per me il lavoro mi ha rallentato sono un libero professionista quindi questo sicuramente mi porta un danno a livello economico però sono felice di fare se questo sacrificio se può servire ad aiutare più persone possibile quindi restate a casa abbiate responsabilità e coraggio